Ciao amico, vorrei comprare un po' del tuo smeraldo, tieniti il tuo stupido grano Oh grazie mille amico Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di MondiCubi Come avete visto dall'inizio del video appunto ho trattato con questo villager che adesso mi propone del melone ma non lo voglio Allora ragazzi in questo video per prima cosa torniamo a casa con altri due cani, altri due cavalli e un terzo che ho preso giusto per Quindi andiamo a prendere le corde, andiamo a salire sul nostro cavallo appunto, saltiamo Andiamo a far alzare i nostri cani, ok Andiamo a legare i cavalli che vogliamo prendere E con tutta la calma di questo mondo ci indirizziamo verso casa Logicamente faccio uno stacco perché altrimenti sarebbe una parte decisamente nerviosa E quindi ci vediamo tra poco Ok ragazzi rieccoci con tutta la buona pazienza che ho trovato Ho portato i cavalli fin qua, davvero credetemi che ho dovuto veramente avere molta pazienza Veramente credetemi perché è stata molto 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 dura Però ce l'abbiamo fatta, meno male E adesso entriamo in casa con questi maledetti cavalli Non posso neanche andare troppo veloce perché altrimenti i cavalli si staccano Sono fatti di carta stagnola Ma va bene, va bene lo stesso Ok, adesso entriamo tutti quanti qua dentro E benvenuti nella mia house Nella mia home Chiamatela come volete, basta che mi lasciate tranquilli Bastata, non riesco comunque a parlare, oddio Allora, ho una fence, vero? Sì che ho una fence Dai, ce l'ho una fence, esatto Spero che vi piacciono le fence Perché a questa qua in particolare ci starete legati per un bel po' amici Eh sì, vi lascio lì Invece te, ritorni con me perché dobbiamo ancora trovare la giungla ragazzi Eh sì ragazzi, yeah, ancora la giungla Oddio no, non ce la posso fare Non la trovo, è incredibile, non riesco assolutamente a trovarla Sì, i cani sono entrati tantissimi, lo so Posiamoli, cioè facciamoli sedere Prendiamo il ferro che aveva messo a cuocere l'ultima volta Che deve ancora finire di cuocere perché i chunks sono rimasti scaricati Andiamolo a mettere qua per appunto smistarlo E ragazzi, appunto mi vedo costretto a dover ripartire perché non posso andare avanti con lo smistamento Finché non ho finito questa, cioè finché non ho trovato questa benedetta giungla Lo so, lo so, potrebbe essere noioso per alcuni Però non ci posso fare nulla ragazzi Ormai tanto cavalli ne ho trovati a bizzeffe Non penso di doverne più prendere perché ne ho trovati veramente tantissimi Eventualmente se trovassi qualche cavallo così uber power Darei via questo che ho preso giusto per averne uno in più da poter viaggiare Niente ragazzi, andrei in quella direzione Non so per quanto, ma andrei in quella direzione Voglio giusto dirvi una cosa prima appunto di fare lo stacco Probabilmente più lungo di tutta la serie Perché come non l'ho trovata nell'ottimo episodio Non penso che la troverò facilmente neanche in questo, ma va bene Comunque, ah ecco, quasi dimenticavo Una cosa che possiamo fare ragazzi per non perderci È un oggetto veramente, veramente molto semplice Però calcolando che siamo molto vicini al nostro spawn Possiamo costruirci una bussola La bussola ci aiuterà a tornare indietro Ok, molto bene, molto bene Andiamo subito a craftare un oggetto nuovo Allora, andiamo qua Dov'è il ferro? Eccolo qui Quanto ne abbiamo? Mamma mia Ne sono arrivati veramente parecchi di lingotti Comunque, quattro pezzi di ferro e un pezzettino di redstone Anche quali ce li abbiamo di qua E ormai lo smistamento cresce Perfetto Ok E come si crafta? È molto semplice, molti di voi lo sapranno già Si crafta così Ok Con al centro un pezzettino di redstone Et voilà Indica il punto di spawn Niente ragazzi, volevo giusto dirvi che Nell'ultimo video Alcuni di voi mi hanno detto Che potevo mettere la keep inventory anche qua E morire, suicidarmi E sarete tornato a casa E io, cioè non è che ho nulla contro chi lo fa Per carità, però Dico solo che è cittare Questo non si può negare E io sono assolutamente contro Appunto al cittare Il massimo che posso fare È mettere in pacifica E sì, quello lì lo metto Ogni tanto lo faccio Ma solo per evitare di andare a dormire nel letto Non tanto per altri motivi E altrimenti potrei tranquillamente andare a dormire E basta Non penso che ci siano altre cose Che possono influenzare molto questo Lo dico apertamente Perché appunto ho la coscienza pulita E niente ragazzi Poi logicamente Se qualcuno fa uso dei cheat Non Di certo non lo voglio squartare Anzi Ognuno è liberissimo di fare cosa vuole Questo cavallo non si arrampica su per la mesa Maledetto cavallo Arrampicati Comunque appunto adesso Dovrò andare a cercare questo Benedetto Benedettissimo Mesa Cioè mesa, oddio giungla Non riesco neanche più a parlare E appunto come ho detto Sarà dura Quindi ragazzi Mettetemi un mi piace Per quello che sto per fare Perché se la trovo veramente 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 tutto E niente Quindi io faccio questo Piccolo stacco ragazzi E ci vediamo tra poco This is Sparta Wow Ok ragazzi Rieccoci finalmente Nella giungla Si ragazzi Si 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 E vai Ah sono troppo contento Ho già raccolto un po' di Fave di cacao Un po' di leno della giungla E un po' di meloni Che sono una nuova novità Ma ve li andrò a spiegare Poi dopo Prima voglio dirvi Che cosa è successo In questo stacco Allora Il povero ferre Ha passato ancora Due ore Due ore del giorno seguente Cioè Ho messo due giorni A registrare questo episodio Perché Ieri Non impiegate quattro E oggi Altre due Dopo due ore Mi sono rotto Le scatole Assolutamente Di girare A cercare delle giungle E ho cominciato a rispondere I vostri commenti A proposito Il cavallo È morto Cioè non è che è morto Non sapeva nuotare Ed è morto Si Ragazzi Il cavallo È affogato E non ci posso fare niente Però una sella Ce l'ho ancora Eccola qua Quindi eventualmente Potremmo cavalcare un maiale Ecco E Niente ragazzi Quindi cosa è successo Io veramente Ero distrutto Avevo le palle Che giravano Come una roulette E Ho cominciato a rispondere Ai vostri commenti Come faccio tutti i giorni Dedico un'ora O due Alla risposta Dei vostri commenti Messaggi privati Messaggi su facebook Link Consigli Eccetera eccetera E E niente Ci sono appunto Un utente Ho trovato un utente Che si chiama Xluca G.U Che ringrazio Lo scriverò grosso Come una casa Xluca G.U Grazie E Sentite dei Graziosi bambini Fuori In casa mia Che urlano Grazie bambini Per la vostra Il vostro Casino Comunque Ehm Quest'utente Mi indica Le coordinate E ce le ho qua Beh è inutile Basta che faccio F3 Comunque ce le ho sul libro Di una giungla Io Arrivo fino alla giungla Vedo la giungla Crepo Beh Vogliamo parlare anche Della clip Del pollo Di poco fa Ti si Sparta Ok Lasciamo stare Comunque Non L'avevo già visto In qualche video Lo ammetto Però Non ho resistito Volevo farlo anche io Ho sempre Impressionato di farlo Comunque Cominciamo a vedere Che cosa si trova Nella giungla Queste sono Fave di cacao E sono dei frutti Che crescono solo Sul legno della giungla Come vedete Non sono molto rare Ma solo nella giungla Non sono molto rare Quindi se non avete Una giungla Come me Saranno molto rare Inoltre Questo è il legno Della giungla Che è un legno Unico Appunto Ha delle tonalità Che poi vedremo E lascia anche Delle alberelli Che anche Appunto Anche questo alberello Ce l'ho Che si chiama Appunto Arbosciare Della giungla E Niente di che Ragazzi Queste Sono le novità Principali Dalla 1.7 È possibile trovare Anche delle Graziosissime Zucche No scusate Meloni Che però qua Cioè Delle grandissime Angurie Che però qua Sono chiamate Meloni Non so perché Comunque Molti sono convinti Che come le zucche I meloni Si Io li chiamo meloni Perché sono rassegnato Però sono angurie I meloni Si rompano Meglio con l'ace In realtà La soluzione migliore È la spada Come vedete Questa è una cosa Che non tutti sanno E ora La sapete Perfetto E Adesso andiamo a prenderla In questa fava di cacao Che avevo messo lì Momentaneamente E parliamo Un attimito Di che cosa fare Di questa giungla Ragazzi Visto che Mi sono affezionato A questo bioma Voglio costruire Qualcosa In questo bioma E cosa farò Andrò Più possibile Vicino alle Coordinate Della mia casa Senza uscire Appunto Dalla giungla E andrò A costruire Una casa Poi costruirò Un portale Del nether E torneremo Indietro E quindi In questi episodi Continueremo Un mondo di cubi Nella giungla Quindi sarà tipo Come la pubblicità Delle gocciole Esatto E Oddio ragazzi Quante cavolate Sparo Quando sono contento Allora Vediamo 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 Le nostre coordinate Erano Meno Se Oddio Lag Assurdo Beh ma Normale Meno Settecento No aspettate Non me le ricordo Già più Caro libro Viene a me Caro libro Caro libro Ok Allora Le nostre coordinate Erano Meno Settecento E trecento Meno Settecento Bisogna andare In quella direzione Bene E Trecento In Aia Aia Trecento In questa qua Quindi andiamo di qua Ok E andiamo Di qua Perfetto Quindi andiamo in questa direzione Nel punto Più estremo Costruiremo La nostra casa Eh si Ragazzi Non so cosa altro dirvi Direi che Piuttosto Comincio a dirvi Come al solito Di lasciare un like Di commentare Iscrivetevi al canale Per vedere Cosa costruirò In questa Giungla E Niente ragazzi Quindi io spero Che il video vi sia piaciuto Spero che Non vi abbia noiato Il fatto che Negli ultimi due episodi Ho cercato la giungla Come un dannato E ho passato ore A nerdare Per cercare questa maletta giungla E E niente ragazzi Quindi io Come al solito Vi ringrazio tutti Dal primo All'ultimo E incluso Appunto anche Quest'utente Che ripeto Il nome Xluca G1 Non dimenticherò mai Il nome Veramente Uno dei tanti utenti Ci sarebbe da fare Una lista Immensa Ma uno dei tanti Che è sempre pronto Lì ad aiutarmi Quindi ragazzi Direi che io Comincio ad Arampicarmi su un albero Comunque scavare un buco Fare un attimino Di lavoro Per preparare la casa E ci vediamo Nel prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti